Durante il viaggio ho letto un libro. Ti ho aspettato per dieci minuti. Ascolto la musica mentre guido. Faccio sport durante la giornata. Non ho mangiato per sei ore. Mentre parlavo mi sono distratto. Luca è andato via per un mese. Siamo stati qui per due anni. Durante la cena guardo un film. Mentre lavoro bevo molti caffè. Durante la gita ho fatto le foto. Mentre spiego rimango seduto. Ho viaggiato per molti anni. Ho telefonato durante la pausa. Mentre leggevi io stavo cucinando. Ho capito tutto durante la lezione. Nessuna cosa dura per sempre. Durante un temporale c'è vento. Il mio cane abbaglia mentre gioca. Ti ho visto mentre facevi la spesa. Claudia è sparita durante la festa. I nostri amici ci aiutano davvero tanto. Qualcun altro ha visto quello che è successo? Questa amica ti è sempre stata molto vicina. Non ho nient'altro da aggiungere ancora. Io so qual è il vestito che ti piace di più. L'anno scorso non sei stato in vacanza. Viaggio spesso in auto sull'autostrada. Sul lago c'è un cigno. Maria lo osserva. L'odore di quelle spezie mi piace molto. Maria ha raccontato tutto alle amiche. Ci hanno detto che è stato un incubo. La tua è una bella idea, ma solo in teoria. Avete concluso un buon affare stamattina. Qual è la frutta che più ti piace con il gelato? Qual è la frutta che più ti piace con il gelato? Va, ma non ci mettere troppo tempo. C'è gente che inventa scuse ogni giorno. D'ora in poi non ti racconterò più nulla. Un coltello. Dei coltelli. Uno sbaglio. Degli sbagli. Una foglia. Una foglia. Delle foglie. Un salotto. Dei salotti. Uno zio. Degli zii. Una cucina. Delle cucine. Un dottore. Dei dottori. Un bagno. Dei bagni. Una camera. Delle camere. Una bottiglia. Delle bottiglie. Una sedia. Delle sedie. Una tavola. Delle tavole. Un bicchiere. Dei bicchieri. Un cucchiaio. Dei cucchiai. Un cucchiaino. Dei cucchiaini. Una forchetta. Delle forchette. Un coltello. Dei coltelli. Uno gnocco. Degli gnocchi. Un'auto. Delle auto. Un amico. Degli amici. Claudia chiama solo me ogni sera. Giovanni ha dato a me la sua penna. Claudia ha telefonato a te, giusto? Lui vuole che io ti chiami dopo. Chiamo lei e non l'altro medico. Le do il mio compito domani. Lei telefona solo a lui per studiare. Io lui lo conosco molto bene. Ieri ho dato il tuo indirizzo a lei. Ieri ho dato il tuo indirizzo a lei. Forse esco con lei stasera. Voi quando uscite con noi? Diteci quando telefonate a noi. Domani parlo di voi alla collega. Non ho dato niente a voi ieri. Domani parlo di loro al professore. Non scrivo mai a loro. Gli telefono. Forse parlo di loro al professore. Non mando mai messaggi a loro. La polterona è comoda. Le polterone sono comode. Il letto è bello e grande. I letti sono belli e grandi. La camera è piccola. Le camere sono piccole. Il libro è lungo, ma interessante. I libri sono lunghi, ma interessanti. Tutto il giorno. Tutti i giorni. Che bella casa. Che belle case. Tutta la notte. Tutte le notti. Il cavallo nero. I cavalli neri. La cravatta nera. Le cravatte nere. La cravatta verde. Le cravatte verdi. L'altra volta. Le altre volte. Questo signore. Questi signori. Questa signorina. Queste signorine. Un reparto. Dei reparti. Un sapone. Dei saponi. Un euro. Degli euro. Il cieco. I ciechi. Lo specchio. Gli specchi. La vacanza. Le vacanze. Il dottore. I dottori. I dottori. A lui non piace il sole. Non lo capisco. Massimo vuole andare a Parigi a maggio. Adesso Elena ha una macchina nuova. A pensarci meglio. Voglio una pizza. Secondo me ha torto, ma sembra convinto. Stiamo andando a mangiare fuori. Melania ha paura di prendere l'aereo. Luca ha due cani e un gatto molto vecchio. In estate andiamo a visitare Firenze. Lei ha molte cose da fare domattina. A sentire lui dovremmo cucinare a casa. Penso che a volte ci voglia una pausa. Ho visto tua cugina lavare la macchina. Non è in casa. Ha mandato un messaggio. Il gatto è sul pianoforte. Sul pianoforte c'è il gatto. Il biglietto è nella borsa. Nella borsa c'è il biglietto. I soldi sono nel portafoglio. Nel portafoglio ci sono i soldi. I vestiti sono nella valigia. Nella valigia ci sono i vestiti. L'orologio è nel cassetto. Nel cassetto c'è l'orologio. Il telefonino è sul tavolo. Sul tavolo c'è il telefonino. Il cane è nella cuccia. Nella cuccia c'è il cane. I libri sono nello zaino. Nello zaino ci sono i libri. Claudio è in cucina. In cucina c'è Claudio. Gli amici sono al bar. Al bar ci sono gli amici. Le chiavi sono in tasca. In tasca ci sono le chiavi. Le sigarette sono nello zaino. Nello zaino ci sono le sigarette. Oggi non sono in ufficio. Prima sono stato al bar. Stasera andiamo al cinema. Domani andate in pizzeria. Ogni anno vado in vacanza. In estate sto spesso al mare. La mia casa si trova in città. Fai la spesa al supermercato. Compro la frutta al mercato. Devo andare in farmacia. Luca adesso abita in centro. Sei salito fino al terzo piano. La mia casa è in campagna. E' arrivato appena in tempo. Ho visto un film in televisione. Loro sono stati al matrimonio. Dopo metto le lasagne in forno. Vado laggiù una volta al mese. Ho rotto lo specchio in bagno. Luca non può andare al bagno. Dobbiamo andarcene in fretta. Io ho mangiato. Io mangiai. Io ho dovuto. Io dovei o dovetti. Io ho capito. Io capii. Tu sei andato. Tu andasti. Tu hai potuto. Tu potesti. Tu hai preferito. Tu preferisti. Lui, lei ha cominciato. Lui, lei cominciò. Lui, lei ha venduto. Lui, lei vende o vendette. Lui, lei ha finito. Lui, lei finì. Lui, lei ha finito. Noi siamo arrivati. Noi arrivammo. Lui, lei ha finito. Noi abbiamo dovuto. Noi dovemmo. Noi siamo partiti. Noi partimmo. Voi avete portato? Voi portaste Voi avete potuto? Voi poteste Voi siete usciti? Voi usciste Loro hanno comprato? Loro comprarono Loro hanno venduto? Loro venderono o vendettero? Loro hanno dormito? Loro dormirono? Quando finiscono le lezioni? Quando finiranno le lezioni? Dove vai questa sera? Dove andrai questa sera? Quando venite a trovarmi? Quando verrete a trovarmi? Quante ore studiate? Quante ore studierete? Dove pranzate? Dove pranzerete? Da chi si fermano a dormire? Da chi si fermeranno a dormire? Con chi esce Maria? Con chi uscirà Maria? Quando inizia il lavoro? Quando inizierà il lavoro? Aprendo? No 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 Grazie a tutti